Ciao a tutti e benvenuti nel mio Home Restaurant. Ricevo moltissime richieste su che cosa bisogna fare per venire a mangiare a casa mia. Seguite bene il video con le indicazioni perché obiettivamente non è molto facile, visto i miei impegni lavorativi e visto la legge regionale della Liguria che regolamenta molto nel dettaglio gli Home Restaurant. La prima regola è il tempo. Di legge devo mandare una comunicazione al mio comune di residenza almeno 4 giorni prima dell'evento ed è per questo che non posso prendere prenotazioni oggi per oggi. La cosa migliore è mettersi d'accordo e organizzare tutto almeno 10 giorni prima. Sembra tanto ma non è così perché dobbiamo decidere il menu, carne, pesce, vegetariano, l'olio taggiasco, lo volete, non lo volete, oppure potete prendere ispirazione dai piatti che trovate nel sito o nel canale. Il menu deve essere uguale per tutto il tavolo. La seconda regola è il pagamento. Sempre di legge posso accettare solo pagamenti elettronici. Io utilizzo Satispay o altrimenti con bonifico bancario. E tutti i pagamenti devono essere effettuati almeno il giorno prima dell'evento. Per ultimo il numero dei commensali. Il tavolo è uno solo, quello che ho in sala. Al massimo posso ospitare 10 persone. Se prenotate solo in due, a parte alcuni casi di privacy che mi è stato chiesto, aprirò il tavolo ad altri. Quindi renderò visibile il menu e la data sul sito a tutti, in modo tale da raggiungere le 8-10 persone. Il famoso social eating. Se siete in quattro ve lo proporrò solamente. Tutto questo perché sempre di legge posso fare 12 eventi all'anno. Spero di essere stato il più chiaro possibile. Vi ringrazio per seguirmi così in tanti. Vi saluto e vi aspetto per i prossimi video.